Stiamo per avvicinarci alla Pasqua. Celebriamo oggi la quinta domenica di Quaresima e oggi si parla di morte e si parla di risurrezione, proprio come a Pasqua. Gesù ha risorto tre persone nella sua vita. Una bambina di 12 anni che era morta, l'ha presa per mano ed è tornata in vita. Un ragazzo che stava per essere portato al cimitero nel giorno della sepoltura con la mamma vedova. Gesù tocco la bara e quel giovane si risveglia. E oggi leggiamo la terza resurrezione di Gesù, Lazzaro. Un giorno un ragazzo adolescente, molto deciso, mi dice Dio non esiste. Ok, rispondo io. E poi gli dico, ma se Dio non esiste tu sei morto, io sono morto, tutti sono morti. Nessun uomo potrà mai dare la vita per sempre. Solo Dio, per sempre. Ragazzi, per sempre è il desiderio che ci portiamo nel cuore. Vivere per sempre, amare per sempre, avere un'amicizia per sempre, un amore che dura tutta la vita, la felicità per sempre. Desideriamo il per sempre e il per sempre è di Dio. Allora oggi Gesù nel Vangelo, che cos'è? un supereroe? Ha i superpoteri? Fa risuscitare le persone? Partiamo dall'inizio. Gesù aveva tre amici, Marta, Maria e Lazzaro. Erano fratelli e sorelle, vivevano a Betania, tre chilometri da Gerusalemme. Spesso Gesù andava da loro, come si va dagli amici, per star bene, per passare una serata in allegria, per chiacchierare. Un giorno lui era lontano da Betania e gli arriva una notizia. Il tuo amico è malato. La notizia la dà la sorella, che manda a dire a Gesù guarda il tuo amico Lazzaro è malato. Che bella preghiera, che bella richiesta. Vi è capitato qualche volta, quando conoscete qualcuno che ha una malattia, una difficoltà, di andare da Gesù e pregare per lui e dirglielo. Oh, è un tuo amico. Una persona a cui vuoi bene, che ti vuole bene, è malato. Che cosa fareste? Partireste subito. Gesù era lontano. Potrebbe veramente in un attimo risolvere la situazione. Vieni subito. E invece Gesù ama il per sempre, non il subito. Il subito lo amiamo noi, a volte in modo esagerato. Fa l'omissione di soccorso? C'era un malato e non arriva, come il 118, una tombulanza a sirene spiegate. Niente di tutto questo. Allora potremmo dire Gesù ha deluso quei suoi amici. Non è partito subito, non è andato a sanare i loro bisogni, a risolvere i problemi. vi è mai capitato che qualche volta un amico, mamma o papà vi deluda? Vi abbia delusi perché non era presente quando avevato bisogno? E difatti Marta e Maria, quando arriva Gesù, ma due giorni dopo, ormai Lazaro era già morto, e quando arriva Marta e Maria dicono a Gesù, ma se tu fossi stato qui, avresti risolto il problema. Se tu, Gesù, fossi veramente là dove c'è la guerra, dove le persone muoiono di fame, di violenza, tutto sarebbe risolto in un attimo, in un colpo di spugna. Ogni tanto diciamo, ma se Dio esiste, perché non interviene quando abbiamo bisogno. Ecco perché poi diciamo che Dio non esiste. Eppure, se mamma o papà, un amico, una persona che aspettavate nel momento del bisogno non sono arrivati, li escludete? O forse sono un po' come Gesù, che quando arriva, sembra che arrivi tardi, si mette a piangere. E a volte lo fanno mamma, papà, un amico. Sono preoccupati per me. E quel pianto, quella preoccupazione. Dicono quanto mi amano. Guardate quanto lo amava, rispondono le persone attorno a quella tomba quando vedono piangere Gesù. Vedete, Gesù compie meraviglie, proprio quando noi pensiamo che sia troppo tardi. Che siano passati troppi giorni. Gesù risuscita Lazaro dopo quattro giorni, quando tutti pensavano, dai, ormai è troppo tardi. Ecco, Gesù piange, si commuove, partecipa. Così come Gesù muore, partecipa alla vita di tutte le persone e alla morte di tutte le persone. Vi sarà capitato qualche volta, purtroppo, di perdere qualche persona amata. Chi di noi non avrebbe desiderato che tornasse in vita? Soprattutto tornasse in questa vita. E quanto ci manca quando non ce l'abbiamo più? La ricordiamo in tanti luoghi, in tante esperienze che abbiamo vissute. Vedete, con quella persona siamo un po' a sfogliare un album di fotografie, dalle più ingiallite alle più nitide. Tutta la sua storia con noi, le cose belle, le cose difficili. Poi arriva una pagina bianca, dove vorremmo ancora imprimere tante fotografie da vivere con questa persona amata. Invece la pagina è bianca. È la pagina che imprime le fotografie della fede. Dov'è adesso la persona che ho amato e che mi ha amato? L'ho persa per sempre? È dietro a quella pietra che è la tomba? Togliete la pietra che ci separa dai vivi e dai morti, dice Gesù. Scioglietelo, vieni fuori, grida forte, Lazzaro esce, liberatelo, lasciatelo andare. Che cosa ha voluto dirci? Forse una cosa, sapete ragazzi, che più che una risurrezione Gesù ha compiuto una rianimazione. Ha soddisfatto il desiderio che portiamo nel cuore, tornare in questa vita. Avete presente quando all'ospedale qualcuno è in rianimazione? Sembra assente, sembra che non ci sia più e poi quando esce dalla rianimazione sembra tornato in vita. Vedete Gesù non è venuto per impedire la morte biologica, ma per dare la vita per sempre, quella presso Dio, non quella su questa terra, pur bella essa sia. Allora risurrezione, rianimazione. Lazzaro è stato rianimato, ma Lazzaro è di nuovo morto, sapete? E non c'era più Gesù a ridargli la vita di prima. Gesù gli ha dato la vita per sempre. Avete presente due immagini, un baco da seta. Quando si fa il bozzolo, si chiude in quel bozzolo e sembra una tomba. Sembra morto e poi fa un buco in quel bozzolo e diventa una farfalla, una nuova vita. Pensate un po' quando un bambino esce dal grembo della mamma. Sembra che passi in un'altra vita. Pensate se avesse un gemello che è ancora lì nel grembo materno. Penserebbe, ma mio fratello è morto, non c'è più qui, non è più in questo spazio qua. Invece il fratello è in una nuova vita, perché per la prima volta, quando nasce, vede il volto della mamma e vede il volto della mamma felice. Ecco che cos'è la risurrezione. Usciamo da un mondo e da un ambiente che sembra unico, ma di lì non vediamo il volto di Dio. Lo vediamo, lo vedremo quando usciremo da questo ambiente, un po' come un bambino, quando nasce alla vita. Prepariamo la Pasqua così, ragazzi. Pregate per qualcuno che soffre, sappiate piangere per qualcuno che soffre, sappiate compatire la sua sofferenza. E se vi viene ogni tanto di dire, ma Dio non esiste, succedono troppe cose brutte, pensate al per sempre. Noi lo desideriamo, ma solo Dio può donarcelo. Per sempre. La vita per sempre. La vita per sempre.